Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Baldarno e Chiusi, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Su raccordo Siena Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Sulla regionale 429 Valdelsa per lavori di sicurezza di vieto di transito dal chilometro 12 al chilometro 17. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!